Iugi Shikawa, le tue sensazioni per questa nuova stagione con il Paolo in Milano? Italiano? Sì, sono molto bene, è un piacere, sto lavorando bene, sto tornando alla sensazione, sto tornando fisico, quindi comincio il 13 settembre la Coppa Italia e faccio il mio massimo anche campionato il 27 settembre, quindi stiamo lavorando in buona preparazione, quindi è molto buono, molto bene. È un gruppo nuovo, questo dell'Heads Cover Volle Milano, la volontà è quella di fare una grande stagione? Sì, sì, nuova squadra, anche nuovi giocatori, anche qualcuno che c'era l'anno scorso, però è una grande squadra, è molto bene, molto bene.